Eccoci qui, sono con il signor Valsecchi, grande maestro di dialetto, sapete che io sto prendendo lezioni. Valsecchi, Brianzolo quindi, eh? Doc. Doc, di dove? Di erba. Di erba, via. Allora, qualche frase? Eh, so che sapere cos'è. Qualche frase, che senso? Eh, osteria, cancella tutto. No, lascialo, lascialo, lascialo. No, no, ce l'ho a casa io, tutti i detti. Io ho a casa tutti i detti, Brianzolo. Eh, te li ricordi, non te li ricordi? Te li porto qua, li legiamo, dai, cancella. Ma no, mi fai venire in mente qualcosa adesso. Eh, stavi dicendo del gioco. Pirlo, quando c'era un bagaglio, giocavamo al Pirlo, un'ora in piazza Mercà, e mettevo un giorno questa trottolina che, di gara, con un bastone con la corda, ti tirava, e il Pirlo girava. E facevamo la corsa, la gara, qui, il Pirlo stava più, 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 dall'altra. Pirlo. Abbiamo imparato il Pirlo. Fa la luce. Sì. Che vuol dire? Eh, fa la luce. Per te da svegliarsi. Vuol dire, guarda e impara. Ecco, esatto, fa la luce. Lo usavano al lavoro, mi hanno detto, i vecchi, i briazzoli. Un po' tutti. Ecco, quando passavano quei verratusetti, ti ha detto, fa la luce. Fa la luce. Fa la luce. 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 E poi, quattro occi, avevano più se da due. Eh? Quattro occi, avevano più se da due. Ah, ok. Quattro occi, non più di due. Quattro occi. Quattro occi. Quattro occi. Quattro occi. Taglia. Quattro occi. Avevano più se da due. Avevano più se da due. E due per due? E se si fa due per due? E due per due? Quattro. Ma c'è che non c'è te, da una cacca. Ah, che cacca sta con... Due per due. Ah, com'è che è? Due per due? Se fanno due per due? Cerca una strada da una cacca. Due per due. Due per due? Vai piano però. Eh, va piano. Eh, va piano. Dì, apri il sole. Va piano, carletto, che l'acqua la scotta. Va piano, carletto, che l'acqua la scotta e pronta la pasta. Eh, e faccia la pasta. Sì, perché stasera saremo in una caccia e ora mangiare un friggio. Ah, aspetta, aspetta. Saremo in una caccia e ora stasera nemmeno mangiare un friggio. Ah, 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 mangiare un friggio. Mangare il magnota e lavorare il barbotto. Mangare il magnota e lavorare il barbotto. Il barbotto. Ah, il barbotto. Il barbotto. Ah, è il barbotto. No, è quello da Castelli che dopo 40 anni che ricchia, allora mi ha capito cosa è che... La mia ponte dice, né qui e né qui. Adesso mi ha detto qui e qui. Qui e qui. Qui e il culo. Qui e il culo. Qui, la testa. Ah, il qui. Eh, non lo so io. Qui e qui. E il culo è il lato via o no? Adesso facciamo il lato via. Quindi? Eh. Sì. 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 Quindi ecco, chiediamo così. Saluto a tutti dai. Saluto a tutti tu in Brianzola. Te saluti. Te saluti. Te saluti. Sì. 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 Sì.